Un attaccante di prima fascia ed un difensore di spessore che non ha bisogno di presentazioni. Gli arrivi nell'ultima giornata di mercato del bomber Andrea Cocco dal Vicenza e del 35enne Ugo Campagnaro rappresentano una dote importante per un pescara uscito rinnovato rispetto alla passata stagione. Ai due innesti si aggiungono acquisti importanti, quali quelli del libico Benali e anche dei vari valotti Verre, Lapadula, Mandragora, Crescenzi, Fiamozzi, Mitriza e Forte, senza dimenticare i ritorni di Zampano, Fiorillo, Bunoza, Fornasier e la conferma di Gianluca Caprari. Ora la parola passa al campo con una squadra che guardando gli altri organici parte subito dietro le corazzate Cagliari, Cessena e Bari. Resta poi la garanzia tecnica rappresentata da Massimo Oddo che dopo aver sfiorato la promozione con il pescara in Serie A la scorsa stagione riparte con l'entusiasmo e la voglia di affermarsi definitivamente. Il resto lo dovrà fare una tifoseria che ha sempre rappresentato il dodicesimo uomo in campo. Tornando al mercato che resterà aperto sempre per gli svincolati, fondamentale è stato anche sfoltire un organico che fino a poche ore fa era a dir poco numeroso. Con Nilsen che ha rescisso sono andati via Milicevic, Pesoli, Barbuti, Rossi, Ciosic, Savelloni, Iannascoli, Ingretolli, Calore, Pretara e Buonaiuto. Domenica all'ardenza di Livorno il primo esame con i toscani che proprio negli ultimi minuti di mercato sono riusciti ad accaparrarsi le prestazioni di Cristian Pasquato accostato ancora una volta al pescara.